ciao ragazze ciao a tutti e tutti nuovo video hair care body care e skin care comunque insieme a serie di prodotti che vi mostrerò il primo è un balsamo della splendore che è molto buona mi sta piacendo veramente tanto questo basso qui appunto il cocco e mi distrugga tutti i capelli non me li annora di nessun modo di top fantastico questo qua poi come altro prodotto mantovani totto fantastico adoro ed è molto buono è un bagno luce appunto olio di argan e testato sulla pelle e va bellissimo quindi la promozione fantastica poi come altro prodotto per capelli stavolta vado su lei che i capelli sciopati e danneggiati dell'ultra dolce di garnier anche questo non è male per niente ed è strastra buono topissimo molto buono poi come per capelli questo qua del live molto buono anche questo è top e mi piace davvero tanto e questo qui mi sembra vabbè oltre al tempo non vestire i capelli ma lascio così infatti vette come sono oggi invece raccolti mesi sciolti molto belli questo è quello sotto la duccia e top fenomenale mentre spettare un po ci piano che non lo voglio far cadere allora come altro prodotto non utilizzo altro perché a parte quello di trattorante per la scella ma vabbè sarebbe questo qui ed è fenomenale questa la tab è molto buono sì niente ragazzi ragazzi allora non ho sempre preso nel naso quando mi quando registro però vabbè niente come spazio l'utilizzo questa qui che è fantastica ed è molto buona è veramente top sì lo so ci sono i capelli perché l'ho appena utilizzata per amici la testa ma va bene stesso e niente mentre per stuccare l'utilizzo a concellare della garnier questi scritti sdruccanti con questi della fior di magnoia delle euro spin che sono max 70 pezzi o vari e niente bene ragazze questo era tutto c'è un altro per vedere e da recensirvi e non ci si vede appunto al prossimo video a dopo a per termina cosa fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi avete avete qualche prodotto vostro preferito per quest'anno i top del mese di luglio ok top flop quello che vorrei i topissimi ma il mio aspettato e mai più senza suono questi qua mai più senza top mai più senza ok like commento iscrizione seguiva e fatemi sapere appunto se vi interessa iscrivetevi al mio canale youtube ok e niente e noi ci si vede al prossimo video ciao ciao